Buonasera e bentornati al serale di amici! Che c'è, c'è, che c'è? Niente, Maria, pensavo che è nunzietto, è un po' come l'insalata. Eh, però a te piace l'insalata, vero maestra? E beh, certo, preferisci l'insalata perché di Alex e Sissi ha paura. Ah! Beh, veramente io mi riferivo all'insalata quella fastidiosa che si ficca tra i denti. Ma sei proprio stupida! Ah! Io comunque devo comunicare che l'eliminato è carola! Non è giusto però! E poi... Basta! Oggi sono un eliminato! Maria, potete dirlo prima? Mi son cagata d'osso! Eh, si sente! Vatta a cambiare, va! Che scemi! Buona Pasqua! Buona Pasqua!